sapete cosa interessante anche fare quello che io faccio da sempre per migliorare lo slang jazzistico soprattutto con le spazzole mi canto delle melodie tematiche Charlie Parker è il massimo per questo tipo di esercizio perché ha dei temi molto articolati pieni di dinamiche nelle note nelle melodie e anche in questo caso senza pad senza batteria senza bacchette o spazzole io canto la melodia e me la suono sul tavolo cercando di dare l'espressione giusta alla dinamica delle varie note della melodia semplicemente su un piano neutro che non abbia suono la melodia semplicemente suonante E' un bellissimo, bellissimo non lo so, ma è uno studio sulla propria concezione melodica del suono e su quanto noi abbiamo la capacità di cantare correttamente, non solo l'altezza delle note della melodia che vogliamo cantare. E già questo è un allenamento molto importante. Il distinguere le note di una melodia complessa fa sì che noi intanto interiorizziamo la sequenza di note e non semplicemente cantandola sotto il profilo ritmico. Sì, sto cantando correttamente lo slang dell'espressione della nota, ma non sto facendo attenzione all'altezza dei suoni. E questo è già il primo studio analitico che ognuno di noi può fare attraverso l'ascolto di determinati temi. E poi, pensando alle spazzole, considerandole come uno strumento che effettivamente può darti tante sonorità in più rispetto alle bacchette, tante sonorità che a livello imitativo possono corrispondere ai suoni di uno strumento a fiato. Il sassofono con la lingua lancia suonerà così. Noi con le bacchette possiamo fare degli accenti. Con le spazzole possiamo fare qualcosa di più. Questo suono strisciato assomiglia a quel La ricerca di questi dettagli timbrici con le spazzole è quello che migliora poi l'esecuzione espressiva di un comping, di una frase. Le melodie intere le rendiamo ancora più efficaci con questo sistema di note suonate più forte, note suonate più piano, note suonate con un'intenzione che è solo teorica e non pratica. Un paida Io la suono così Un paida Perché questo Mi dà l'idea della nota lunga Se facessi così non cambierebbe niente dal punto di vista del suono Ma dal punto di vista espressivo e fisiologico cambia Un, due, un Pai, ba Piuttosto che così Un Sono idee, sono meccanismi che corrispondono a un'idea di suono Più o meno efficace dal punto di vista pratico Ma sicuramente efficace dal punto di vista interiore Di quello che vogliamo ottenere su un tamburo con le spazzole A maggior ragione di quello che vogliamo ottenere con due mani su un tavolo Provateci